Romeo CLS Per avviare questo a questa giornata ci siamo inventati una piccola survey per sapere un po' da voi che cosa effettivamente sia l'intelligenza artificiale, quale sia la percezione che voi ne abbiate e abbiamo aperto un mese fa, più o meno, venti giorni fa, una survey con quattro domande, quattro, delle quali abbiamo in qualche modo avuto risposta. Ora cerchiamo di vedere insieme che cosa ne sappiamo di intelligenza artificiale, quantomeno diciamo di perimetro. Prendo la cartellina, perché quando la Carolina mi ha chiesto di fare il CERM hanno detto va bene, solo se mi date una cartellina, se no, quindi finalmente ho la mia cartellina, come potete vedere. Allora, vediamo le slide. La prima, quale sarà l'impatto economico globale dell'intelligenza artificiale entro il 2030? Allora, il 2030 è diventato un po' il pillar di tutto quello che stiamo prendendo in considerazione. Nel 2030 ci saranno tante macchine a guida autonoma. Nel 2030 nessuno comprerà più un'automobile perché tutti useremo quelle degli altri, che però non avendole comprate nemmeno loro diventerà un po' difficile, diciamo. Però il 2030 sembra veramente un angolo dietro a un edificio sul quale prendiamo dei grandi rischi nel fare questa scommessa. Perché fare una previsione al 2050, in fin dei conti, ma chi di noi sarà lì a dire, sì però avevi detto, insomma, adesso. Quindi, questo è un punto. Il 2030 è fra dieci anni e probabilmente fra tre avremo delle previsioni totalmente diverse da quelle che stiamo facendo adesso. Allora, qual è l'impatto economico globale dell'intelligenza artificiale nel 2030? 13 miliardi, 1.300 miliardi, 13.000 miliardi. Voi vi siete fatti la vostra idea? Vediamo qual è la risposta esatta. Ammesso che ci sia, ecco qua. Questo è il risultato della survey. Quindi, diciamo che i rispondenti hanno azzeccato la risposta esatta. Sono 13.000 miliardi. Voi direte, ma è tanto poco? Non lo so. Onestamente, non è una cifra così impressionante. E vi spiego per quale ragione. Semplicemente per il fatto che l'intelligenza artificiale, già oggi, ma nel futuro, anche prossimo, sarà sempre più pervasiva. E tutto quello che noi facciamo potrà rientrare sotto un macro cappello di intelligenza artificiale. Se voi pensate all'RPA, Robotic Process Automation, la Robotic Process Automation esiste in quanto tale da 40 anni. Eppure oggi è uno dei punti sui quali si concentra il maggior numero degli investimenti nel campo dell'intelligenza artificiale. Quindi, è un numero che secondo me poi verrà sicuramente superato. Quindi diciamo che oggi è un'approssimazione per difetto di quello che potrebbe essere il futuro. Poi abbiamo fatto una seconda domanda che era relativa alle competenze. Allora, queste tre competenze le abbiamo prese dal World Economic Forum 2018. C'è un documento disponibile, chiunque lo può andare a leggere, in cui si proietta nel 2022, quindi molto più concreto, nel 2022 probabilmente qualcuno di voi ha già fatto un business plan, ha messo che il business plan esiste ancora come concetto, ma è fra tre anni, no? Quindi, non è poi così futuribile. Stiamo percependo segnali che non sono più neanche tanto deboli. Vediamo che cosa hanno risposto le persone. Sono molto indecise, però questo è interessante. Quanti di voi avrebbero detto Active Learning and Learning Strategies come primo? Provate, tirate su le mani. Chi di voi avrebbe risposto? Pochi. E chi invece avrebbe detto Analytical Thinking and Innovation? Già di più. E chi avrebbe detto invece Creativity, Originalty and Initiative? Va bene. Allora, il primo effettivamente è Analytical Thinking, ma gli altri due sono il secondo e il terzo. Quindi questi sono i tre cluster di skill che saranno più richiesti nel 2022, cioè adesso. Il che significa che se noi pensiamo, ipotizziamo che cosa significa in un'azienda creare change management ai fini di mettere a terra competenze di questo tipo, ammesso che queste siano competenze, le chiamano skill, secondo me alcune sono caratteristiche e quindi non è così semplice neanche capire veramente che cosa si possa fare quando si parli di caratteristiche, no? Compiuti tre anni, quello che c'è, c'è e quindi. Però la cosa interessante è che comunque di queste cose noi dobbiamo in qualche modo preoccuparci da subito. Le classiche competenze che stanno all'interno delle imprese stanno sempre più spostandosi, stanno sempre più venendo meno. E quello che caratterizza questo momento, diciamo, da tanti identificato come quarta rivoluzione industriale, ci sono dei libri molto interessanti scritti tra l'altro da Schaub, che è il fondatore di World Economic Forum, che suggerisco a tutti di leggere, è molto interessante e illuminante. Il tema vero è che i cicli con i quali la tecnologia oggi si rinnova non sono di fatto più in grado di incontrare la capacità di rinnovamento delle competenze. Non facciamo più in tempo. Questo è il vero punto. Quindi emergono altre attitudini che dobbiamo avere, altre caratteristiche che dobbiamo avere. Per esempio, una classica di cui diciamo sempre, ci riempiamo molto dei nostri discorsi, imparare ad imparare non è più un gioco. È l'unica cosa che ci resta. Noi viviamo in un mondo che ha, come diciamo, il new black è la dinamica. Non siamo più fermi, mai. Quindi è molto difficile fissare una competenza e dire mi concentro su quella. Nel momento in cui sono riuscito a farla propria non c'è più, non serve più, è di quelli che verranno sostituiti dal robot. Quindi diciamo, da questo punto di vista la sfida è anche quella di capire come poter utilizzare le tecnologie dell'intelligenza artificiale per supplire a questo tipo di dinamica, no? E quindi come possiamo spingere, diciamo, sull'interazione uomo-macchina? Lo vedremo, perché qualcuno ci darà una mano a capirlo. Ok, vediamo la prossima. Quando è nato il primo robot? Per robot qui abbiamo inteso un aggeggio semovente in grado di girare attorno agli angoli, non inciampare sulle scale, una sorta di rumba antelitteram. Che anno era? Allora, vediamo. nonostante ci sia Google, ragazzi, voglio dire. Allora, spinti da questo grandissimo entusiasmo, 64. In realtà è del 66. La vera cosa però interessante, al di là del fatto che non sia il 64 ma sia il 66, è che stiamo parlando di una roba che è successa più di 50 anni fa. La prima volta che abbiamo sentito nominare il termine intelligenza artificiale era il 55, McCarthy per primo inventò questo neologismo. Intelligenza artificiale, ossia qualcosa che noi potremmo in qualche modo intendere fatto da un'intelligenza umana, qualcosa di intelligente. Pensate al test di Turing. Ci sono oggi dei casi nei quali non riusciamo a riconoscere che il bot con cui stiamo parlando è un bot. La risposta è consistente. Ci sono dei video, potete andare su YouTube, è pieno, è pieno di avatar che vi vendono carte di credito o che vi suggeriscono di investire i 209 milioni in una serie di pacchettini. Benissimo. E ora vediamo l'ultima. Molto sfidante. l'intelligenza artificiale è una tecnologia pericolosa. Fatevi il vostro pensierino e vediamo com'è il risposto. Via. Vediamo com'è la risposta. Allora, Tim Cook non ci credeva a nessuno, no? Però Tim Cook, che non ha figli, è quello che ha vietato l'utilizzo dell'iPhone ai suoi nipoti. quindi anche lui diciamo per sua parte nonostante sia uno delle persone più di successo, Se andate a vedere la crescita che ha fatto Apple con Tim Cook, quella fatta col grande genio scompare in termini di numeri, è impressionante. Quindi non è Donald Trump ed è Elon Musk. È proprio lui, Elon Musk, il quale peraltro sta sviluppando tra i suoi vari investimenti sta sviluppando una società che di lavoro fa plug-in di cervelli con laboratori elettronici. Quindi è di qualche giorno fa la notizia che una persona purtroppo tetraplegica è riuscita a camminare grazie a un esoscheletro collegato direttamente col suo cervello. Quindi non ha dovuto imparare qualcosa per interagire con questo sistema dotato di intelligenza artificiale. Ha dovuto rimparare a camminare tutto lì tra virgolette naturalmente. Quindi diciamo è una giornata sfidante oggi, richiede la vostra attenzione. L'obiettivo probabilmente non è tanto quello di darvi tante risposte ma di farvi venire tante domande che è un po' il modo in cui noi dovremmo gestire la nostra quotidianità. Mi ricordo un professore del Politecnico di Teoria dei Sistemi il quale aveva questa formula quando qualcuno di noi allievi gli poneva una domanda lui diceva subito la domanda è giusta. Ci ho messo un po' a capire lo spirito con il quale veniva detta questa cosa. La domanda è giusta significa aver capito il contesto significa avere quella sana curiosità di andare oltre il perimetro ed è quello che dovrebbe permeare tutti noi no? Intelligenza artificiale vuol dire innovazione innovazione vuol dire domande è un'equazione quindi benissimo allora quindi chiusa questa prima parte un po' di diciamo come si dice di ice breaking che dovrebbe essere quello che vi porta a regime invito sul palco Daniele Mazzei Daniele è un ingegnere biomedico mi raccontava che è stato parte del primo corso di laurea di ingegneria biomedica quindi in momenti non diciamo in tempi non sospetti quando l'ingegneria biomedica era guardata un po' di traverso da quelli che facevano magari cose più hard io sono elettrotecnico vedi un po' te quanto sono hard per cui quando c'è da cambiare una lampadina però in casa non c'è storia ho odiato molto hai odiato molto eccolo lì allora Daniele ci racconta con un intervento molto bello che si chiama AI with your sense quindi cercherà di darci qualche chiave di lettura su come noi potremmo veramente interagire con le macchine e come non fare tanto diciamo cancellazione della nostra capacità di stare al mondo quanto invece human augmentation bene ti lascio grazie Alessandro buongiorno a tutti un paio di settimane fa una mattina verso le sei e mezzo mia figlia si lamentava nel lettino vado a vedere cosa fosse e mi chiede mi chiede il latte vado in cucina preparo i soliti 240 ml di latte glieli scaldo li metto nel microonde nel frattempo penso come tutte le mattine mannaggia forse non dovrei scaldarlo nel microonde però ho troppo sonno continuo a scaldarlo nel microonde glielo prendo glielo porto lei beve il latte e io penso ormai è un quarto alle sette mi vesto mia moglie non lavora questa mattina lavora nel pomeriggio vado a correre metto le cuffie carico la solita playlist che carico tutte le volte che vado a correre metto la solita app per come dire registrare queste mie poche performance che riesco a fare ormai di sport e parto per lo stesso percorso per la stessa strada con lo stesso passo tanto la playlist più o meno è sempre la stessa sulla via del ritorno passo sotto una casa e vedo una finestra aperta e da quella finestra esce un odore di caffè era un caffè fatto con la moca molto probabilmente non era 100% arabica era una robusta perché era molto tondo molto avvolgente quell'odore che è entrato nel mio naso è diventato un cuneo nel mio cervello e ha lasciato un segno e ora io ricordo tutto quello che è successo mezz'ora prima e mezz'ora dopo con una lucidità incredibile ma io sono tornato a correre la settimana scorsa per la stessa strada la stessa ora dopo aver fatto lo stesso latte e non ricordo niente della corsa dell'altro giorno ma ricordo tutto di quella di tre settimane fa questa signora è l'intelligenza umana è una cosa che funziona male è una cosa che è imprevedibile e è una cosa che è tutto meno che algoritmica è una cosa che è intangibile e è una cosa che non è guidata dall'obiettivo ma è guidata dalla sorgente dai sensi immagino che una cosa simile sia capitata a tutti voi non una volta decine di volte nella vita chi ha bambini riconoscerà probabilmente questo questo è Inside Out uno degli ultimi cartoon della Disney credo o della Pixar Allora Inside Out è fatto veramente bene perché quella pallina là è uno dei modi più intelligenti di spiegare come funzionano i nostri ricordi noi pensiamo con i nostri sensi poi concretizziamo grazie alle nostre emozioni incapsuliamo e creiamo quello che chiamiamo ricordi la nostra memoria non è fatta di ricordi astratti è fatta di immagini corporee di come di fotografie di come voi vi sentivate quando avete vissuto quell'evento tutto il resto il nostro cervello lo inventa per far sentire voi a vostro agio voi non avete la più pallida idea di quello che avete fatto ieri e nemmeno di come vi siete legati le scarpe stamattina ma se aveste sbagliato il nodo vi ricorderete che avrete l'evento dell'aver legato la scarpa stamattina questo signori è stato da me romanzato ma in realtà scritto molto bene dal grande neuroscienziato Antonio Damasio Antonio Damasio scrisse nel 94 non stiamo parlando degli anni 30 stiamo parlando del 1994 questo libro che si chiama L'errore di Cartesio Cartesio sosteneva cogito ergo sum quindi io penso e di conseguenza esisto da qui nella filosofia di Cartesio si evince poi se si va in maggiori dettagli che Cartesio riteneva che la mente e il corpo fossero due elementi separati e che ciò che distingueva l'uomo era la presenza della mente dell'intelligenza e che pertanto l'uomo è rappresentabile dalla propria mente Damasio dice che questo è un errore gravissimo e che non può esistere una mente senza un corpo da qui Damasio ci porta a quello che lui definisce il concetto di marcatore somatico il marcatore somatico è quello che è successo a me quella mattina correndo con il caffè e funziona in questo modo voi percepite il mondo attraverso i vostri sensi i vostri sensi guidano le vostre emozioni a un certo punto le vostre emozioni possono o meno arrivare ad un livello che supera una certa soglia e questa soglia varia nel tempo e è una cosa che non riusciamo a spiegare perché è come se fosse una soglia su un mix di emozioni non esiste una soglia sulla felicità è una soglia sul misto fatto sta che a un certo punto quando superate quella soglia scatta il marcatore somatico e c'è una particolare parte del cervello che è nella corteccia prefrontale dove viene creata la pallina che vi ho fatto vedere prima di Inside Out cioè quando il trigger delle emozioni parte si scatta un'immagine della sensazione corporea di quel momento fate un esercizio provate a definire la paura immaginandolo di doverla narrare ad un alieno che ha un corpo diverso dal vostro che non è mai stato sulla terra e che voi non avete la più pallida idea di cosa lui senta non ci riuscirete mai perché la definizione di paura se la dovete spiegare a un bambino gli dite è quella sensazione di quando tremi di quando ti senti il cuore che va veloce ti senti tutto teso non avete una definizione di paura raccontate la fotografia del vostro corpo mentre che sente la paura la paura senza il vostro corpo non esiste dovete sentirla la paura per averla se no non avete paura da qui negli anni 60 abbiamo cominciato a sviluppare la grande componente dell'intelligenza artificiale poi tanti dicono che non avevamo sufficiente potenza computazionale per poterla portare avanti e le cose sono rallentate questa è una falsa verità è parzialmente vero in realtà quello che è successo è che abbiamo completamente cambiato il concetto di intelligenza artificiale siamo passati da un'intelligenza artificiale di stampo puramente computazionale quindi un algoritmo che sta da solo da una parte e vince contro un altro algoritmo che gioca scacchi oppure l'algoritmo che dice a un operatore come muovere gli scacchi e vince contro un campione di scacchi a quella che oggi si definisce Embodied Artificial Intelligence cioè quindi un'intelligenza artificiale incorporata un'intelligenza artificiale che non può più esistere senza un corpo alcuni di voi sicuramente in questo momento stanno pensando ma quando io faccio Data Science e Machine Learning e analizzo dei dati su un database quel database non ha un corpo questo è parzialmente vero perché i dati che sono stati acquisiti in qualche modo da qualche interfaccia verso il mondo e sono stati messi dentro quel database sono stati acquisiti attraverso un corpo se io faccio Predictive Maintenance non devo pensare ai dati che ho sul database quando li analizzo devo pensare a dove ho messo i sensori nella macchina pensare alla macchina come un organismo se non rischio di avere dei dati che non contengono l'informazione di cui ho bisogno questo concetto lo ereditiamo dalla biologia e dalla semiotica Hux e Lezibuk negli anni 60 credo sono un biologo tedesco e un semiota ungherese definiscono il concetto di Humwelt Humwelt in tedesco vuol dire environment ambiente l'Humwelt però è il mondo soggettivo uno stagno per un uomo non è lo stesso stagno che vede una rana non esiste il concetto di stagno è uno stagno per un uomo una cosa putrida probabilmente con qualche ninfea e un sacco di zanzare e invece è un banchetto per una rana come facciamo a definire uno stagno senza avere un corpo lo stagno visto da una camera digitale non è niente è un insieme di pixel che noi abbiamo mappato su colori che noi umiani siamo in grado di percepire quello che vedete qua è un esperimento che abbiamo fatto nel mio laboratorio quando nell'87 Cook e Simon ragionavano sul concetto di Humwelt svilupparono quello che era il primo sistema di intelligenza artificiale per guidare l'attenzione di robot e lo basarono sul concetto di salienza la salienza è la quantità di informazione contenuta in un'immagine quella che vedete a destra è la mappa della salienza dell'immagine di sinistra della vostra sinistra sì e in particolare il puntino è il punto dell'immagine a maggior salienza Simon & Cook e attenzione siamo dovuti arrivare al 2000 per poter implementare quello che Simon & Cook avevano pensato solo come algoritmo quando nel 2000 abbiamo cominciato a testarla ci siamo resi conto che questo sistema faceva tutto meno che mimare per esempio l'attenzione umana non so se avete visto prima fatto stacche ora su un fermo immagine questo intelligenza artificiale è attratta dalla spalla del mio collaboratore ma non lo guarda in faccia nessun uomo ma nessun gatto nessun cane farebbe questa cosa perché? perché manca quelle che sono chiamate social cue i trigger sociali e allora abbiamo esteso questo lavoro e abbiamo cominciato a dare in pasto all'algoritmo non solo la salienza dell'immagine che in questo video è il pallino verde ma anche altre informazioni gli abbiamo detto dove sono le persone dove sono le mani di queste persone che espressioni facciali stanno facendo chi sta parlando e gli abbiamo detto la distanza in termini tridimensionali quindi non più un'immagine piatta e vedete che c'è una forte discrepanza tra il pallino giallo e il pallino verde il pallino verde durante l'interlocuzione tra questa intelligenza artificiale e le due persone ha continuato a guardare la ragazza di spalle che era sullo sfondo sbagliando calamorosamente perché se io ho uno scambio ho un'interlocuzione con delle persone sono decisamente sgarbato se guardo una terza persona di spalle sullo sfondo forse avete notato che l'algoritmo ha anche spostato l'attenzione sulla persona che stava entrando dalla porta quindi mimando quella che chiameremmo curiosità queste sono tutte cue sociali che non possono essere mimate in termini algoritmi algoritmici ma vi faccio riflettere sul fatto che per fare questa cosa quell'intelligenza artificiale deve avere una testa la deve ruotare perché finché recepisce solo esclusivamente un'immagine piatta non la può fare questo è dove siamo arrivati oggi e riusciamo a farlo con sei persone in parallelo il pallino viola è la salienza è imbarazzante continua a guardare in punti abbastanza delicati dal punto di vista sociale non possiamo permetterci di costruire un robot di questo tipo questo è puramente algoritmico signori cioè il pallino viola è calcolato tirando fuori dei numeri da una semplice rete neurale ma questa cosa non funziona non funziona perché il nostro cervello non funziona così e ora che voi vedete questa cosa tutto insieme per voi è diventato ovvio ma quel pallino viola ci sono venuti 16 anni per sviluppare l'algoritmo intelligenza artificiale che lo produce è arrivato il momento quindi di dargli un corpo a questo algoritmo perché la vera sfida è chiedersi ma cosa succede a un computer quando gli crescono le braccia o quando gli cresce una faccia e a quel punto la domanda diventa ma un robot cos'è? ecco secondo me un robot è un computer con un'interfaccia di interazione atta all'interazione uomo-macchina estremamente efficiente ma efficiente non dal punto di vista tecnologico dal punto di vista umano dobbiamo smetterla di costruire macchine che pretendono che gli umani si adattino al linguaggio delle macchine saranno le macchine di domani dovranno adattarsi al mondo degli umani se no non raggiungeremo mai dei sistemi efficienti perché noi diventeremo il collo di bottiglia questo è un corpo per un computer che pretende di avere una nuova generazione di interazioni con gli umani ci siamo spinti oltre perché si ragionava sul concetto di sensi no? e tante volte noi usiamo il termine sesto senso ma cos'è un sesto senso? il sesto senso non esiste lo chiamiamo come nuovo senso ma in realtà è una skill che acquisiamo un sesto senso che tutti conoscete è la capacità dei medici di percepire il battito cardiaco con solo due dita ok? io ponendo se fossi un medico mi riesce anche a me però se fossi un medico sicuramente in pochi secondi saprei calcolare il battito cardiaco di un soggetto semplicemente sentendogli il polso o sentendogli la carotide allora abbiamo detto come si fa a creare questa cosa in un robot dobbiamo veramente mimare gli umani? no no il biomimicking ci ha rovinato la ricerca per i precedenti trent'anni abbiamo cercato di replicare in tutto e per tutto l'uomo poi in qualche modo invece è venuto fuori che la tecnologia ci dava la possibilità di raggiungere lo stesso obiettivo usando strade diverse che per qualche motivo si erano sviluppate in una maniera più efficiente queste sono le spalle di quel robot che avete visto prima dove se voi appoggiate tre dita il robot è in grado di calcolare il battito cardiaco cioè il robot fa l'ECG non proprio l'ECG calcola il battito cardiaco delle persone che gli appoggiano tre dita sulle spalle quindi se io voglio fare un robot che assiste per esempio gli anziani o che supporta le persone nella navigazione all'interno di un ospedale oltre a doverlo rendere empatico come ho cercato di fare prima posso anche pensare di dotarlo di questo senso qua ma non posso investire nella realizzazione di un super sensore tattile da metterle in cima alle dita perché gli uomini fanno così perché il tatto artificiale non è al livello a cui è arrivata l'elettronica perché ora noi con i nostri smartwatch facciamo l'ECG e quindi arriviamo a un'intelligenza di stampo emozionale arriviamo un'intelligenza artificiale che non è più guidata dall'elaborazione del dato ma dalle emozioni che il dato ha generato nell'intelligenza artificiale stessa Antonio Damasio nel suo libro narra l'esperimento che lui faceva per diagnosticare la incapacità emotiva di alcuni suoi pazienti questo esperimento si chiama yoga gambling task fondamentalmente è un gioco un gioco di scommessa che lui faceva fare ai pazienti il gioco è molto semplice ci sono quattro mazzi in questi quattro mazzi ci sono delle carte che ti dicono semplicemente un numero che può essere positivo o negativo cioè quanto hai vinto o quanto hai perso tu parti che hai un certo portafoglio un certo ammontare prendi le carte e o vinci qualche cosa o perdi qualche cosa i mazzi sono truccati due mazzi sono conservativi cioè si tende a vincere poco e a perdere poco due mazzi sono ad alto rischio cioè si tende ci sono carte con numeri grandi o perdi tanto o vinci tanto abbiamo detto facciamo giocare la nostra intelligenza artificiale che ha il marcatore somatico e che quindi non usa il numero per discriminare i mazzi ma usa le emozioni che la conseguenza dell'aver pescato una carta gli comporta e vediamo cosa succede a sinistra voi vedete il grafico dell'intelligenza artificiale che gioca allo iova grumbling task con il marcatore somatico disabilitato i tecnici qui e non solo noteranno che è puramente random quindi il robot tira a caso non ha nessun metro per capire quello che sta facendo tant'è che tutti i mazzi hanno avuto lo stesso numero di giocate su questi sono più di sono cento giocate attivando il marcatore somatico invece cosa succede succede che ogni volta che l'intelligenza artificiale prende una carta che lo fa vincere sta bene dopo vedremo cosa vuol dire quando invece perde sta male e quindi andando avanti vedete il grafico risale inizia a perdere qualcosina e poi capisce quali sono i mazzi che lo fanno star male e smette di prenderli e punta sui mazzi più conservativi il mazzo A è il più conservativo di tutti vince poco più o meno conserva il proprio patrimonio iniziale non ha fatto una grande giocata ma torna a casa avendo passato avendo fatto cento mani senza aver perso soldi ok tutto questo è fattibile con un'intelligenza artificiale molto più semplice della nostra signori con un pochino di algoritmo c'è una differenza questo sistema lo possiamo usare in qualsiasi applicazione senza dover necessariamente conoscere le specifiche regole di quell'applicazione tutti gli altri sistemi di intelligenza artificiale devono conoscere tutte le regole del sistema questo è il robot face che interagisce con delle persone e qui vedete il suo stato emotivo che poi è rispecchiato dalla sua faccia lui era face era triste questo è questo è lo zero e questa è l'arousal cioè il suo eccitamento fino a che Lorenzo non è entrato nella stanza all'inizio è rimasta neutra perché non lo conosceva quando l'ha riconosciuto perché lui è arrivato più vicino è diventata felice a un certo punto entra un nuovo soggetto lei ritorna neutra non ha idea di chi sia e quindi deve capire prima chi è quando Roberto si fa riconoscere lei ritorna felice qui loro cominciano a parlare lei ha un picco di valenza tant'è che sorride la valenza è la positività dell'emozione ora vedrete che Lorenzo fa una cosa molto sgarbata invade lo spazio peripersonale di Face e quindi le sue emozioni crollano lei si sente violata dopodiché Lorenzo torna indietro lei non ridiventa felice perché non capisce ciò che Lorenzo sta facendo alla fine lui la saluta e va via ora vedrete che anche Roberto va via e lei torna e lei si trova sola qui ha salutato si trova sola e il suo stato emozionale crolla nuovamente tutto questo è fattibile senza questa intelligenza artificiale ok io posso chiaramente scrivere una serie di regole che fa girare la testa di quel robot in quel modo ma farà sempre quelle rotazioni farà sempre quelle cose questa è l'accuratezza che Face ha avuto nel seguire le facce in confronto con il video di quella interazione fatto vedere a un soggetto umano quindi Face ha seguito ha replicato il movimento oculare dell'umano con l'89,4% di accuratezza il 10.6% è dovuto al fatto che non è sufficientemente veloce per seguire queste perturbazioni veloci qua vi lascio con questa slide questo è un articolo che è uscito su Nature un anno fa e mette a confronto un'immagine di risonanza magnetica funzionale di cervelli a riposo tra persone che si sono definite innamorate a confronto con persone che si sono appena lasciate e con persone che invece si sono definite singolo o che non hanno mai avuto un'esperienza di tipo un innamoramento sembra che ci siano delle zone del cervello che a riposo differiscono in termini di attivazione tra le persone che sono innamorate e le persone che si sono appena lasciate questo vuol dire signori che c'è una differenza funzionale fisica nel cervello dovuta all'amore questo vuol dire signori che noi non abbiamo la più pallida idea di cosa sia l'intelligenza e che quindi quando parliamo di intelligenza artificiale bisognerebbe veramente cominciare ad andare un po' con i piedi di piombo grazie